il dottor Fabrizio Marrone. Fabrizio, benvenuto. Eccoci qua, grazie, buonasera a tutti. Nutrizionista, farmacista, insomma, molti di voi lo conoscono. Io ritengo che da un punto di vista nutraceutico sia una delle persone più esperte che abbiamo sicuramente in Italia, quindi è un onore avere con noi la sua esperienza, uno che è anche centro S-Drive e quindi è un onore poter condividere anche la clinica e un caso clinico. Allora, Fabrizio, condivido nello schermo la prima cosa che vedi è la nuova pagina del nuovo report sul metabolismo e poi qui invece c'è il tuo caso, quindi a te la parola. Allora, buonasera a tutti. Non c'è nome e cognome, naturalmente. Fabrizio Marrone, farmacista esperto in nutraceutica. Questa sera evidenziamo un test epigenetico di una ragazza di 27 anni, è una ragazza in carriera, una ragazza che viaggia molto all'estero, prende molto l'aereo, è una ragazza sempre attiva, molto attiva, però in questo periodo ha riscontrato una debolezza fisica, problematiche a livello energetico e quindi ho deciso di fare il mineralogramma, insieme anche a medici che l'hanno consigliata di venire da me e fare appunto il mineralogramma, il test epigenetico, quindi noi giustamente dal capello riusciamo a capire tante dinamiche epigenetiche, quindi tutto ciò che ci circonda, sia dal punto di vista dell'alimentazione, dal punto di vista fisico, da tutto quello che ci circonda. E come vediamo ha delle interferenze, perché come vediamo dal numero, il test epigenetico ci dà delle priorità. La priorità numero uno, vediamo l'importanza delle interferenze, quindi a livello, ci sono delle interferenze che vanno praticamente, dobbiamo assolutamente conoscerle e catturarle, perché portano a un blocco mitocondriale, come abbiamo visto prima anche a livello di metilazione, quindi l'elettrosensibilità va assolutamente catturata, quindi dobbiamo lavorare molto a livello l'endogeno, sullo stress ossidativo. Vediamo come numero due, abbiamo anche una problematica a livello di aminoacidi, perché dico una problematica? Che adesso analizzeremo caso per caso, però è possibile che manchino degli aminoacidi importanti a livello muscolare, ma non solo. Il nostro corpo è un equilibrio, quindi noi dobbiamo cercare di mantenere questo equilibrio da tutti i punti di vista, dal punto di vista di infiammazione, dal punto di vista del microbiota e anche a livello dello stress ossidativo. Infatti lavoriamo anche sugli acidi grassi, vediamo come anche qui, da questo punto di vista, sicuramente c'è un'infiammazione, noi dobbiamo portare l'equilibrio della cascata degli ecosanoidi, rapporto omega 3, omega 6, acido arachidonico e quindi adesso vedremo anche questo rapporto e lo andremo a valutare anche da un punto di vista dell'alimentazione, perché l'alimentazione è fondamentale per i fattori epigenetici. Vediamo anche che c'è una resistenza e abbiamo anche una carenza a livello di minerali e anche qui sappiamo che i minerali nel nostro corpo tendono ad avere un equilibrio, quindi se aumentiamo un minerale dobbiamo cercare di compensare il minerale antagonista. Facciamo un esempio, zinco-rame hanno un rapporto 10 a 1, quindi noi dobbiamo cercare di valutare anche una carenza oppure un eccesso di minerali. E riepilogando vediamo come la ragazza ha un sistema adrenergico abbastanza spinto, è una ragazza in carriera, quindi vediamo come a livello adrenergico l'adrenalina aumenta insomma tutte le dinamiche, anche le dinamiche dello stress, dinamiche a livello effetti notrobo positivo, quindi noi dobbiamo cercare anche un equilibrio da questo punto di vista, quindi dobbiamo lavorare assolutamente a livello del microbiota intestinale. Vediamo come il test epigenetico ci evidenzia uno squilibrio a livello del microbiota e noi sappiamo che a livello del microbiota intestinale, appunto il nostro secondo cervello, a livello del microbiota noi produciamo serotonina, precursori importanti serotonergici come il triptofano, sistema nervoso parasimpatico che è quel sistema che porta all'equilibrio. E infine vediamo anche un sistema ormonale, ci dà una problematica anche a livello ormonale e quindi adesso andiamo a fondo e vediamo tutti gli apparati. Possiamo andare alla pagina successiva. Ecco, qui vediamo già le interferenze, però possiamo passare alla successiva così analizziamo passo per passo. Ecco qui, qui andiamo a ricapitolare. Numero uno, dobbiamo lavorare assolutamente a livello del sistema adrenergico, altrimenti andiamo incontro a diverse problematiche, le problematiche di stress, soprattutto uno stress ossidativo. Quando abbiamo uno stress che si protrae nel tempo, quando uno stress diventa continuo e lì intervengono purtroppo, ahimè, ormoni catabolici come il cortisolo. Il cortisolo è l'ormone catabolico per eccellenza e quindi noi dobbiamo cercare di modulare il sistema adrenergico, inibire il cortisolo, aiutare lo stress ossidativo, dobbiamo modularlo e quindi dal sistema adrenergico passiamo al sistema intestinale, equilibrio microbico intestinale. Abbiamo visto l'importanza del microbiota, adesso andremo a fondo per capire qual è la problematica del microbiota, vediamo se c'è una disbiosi, una lecchi gut, insomma dobbiamo cercare di conoscere il nostro intestino e anche il sistema ormonale e quindi andremo a fondo nei sistemi per cercare di dare un equilibrio. E' più vicino magari per la voce. Sì? Sì, mi hanno detto che a volte va via. Mi sentite? Sì, 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 bene. Bene, aspetta un attimo. Ecco qui qua, quindi andiamo avanti. Allora, qui entriamo direttamente sulle carenze, da un punto di vista del sistema immunitario, vediamo tutte le carenze evidenziate e quindi vediamo che il test epigenetico ci incomincia a dare delle carenze importanti a livello sia di minerali che di vitamine che di antiossidanti. Poi il mineralogramma, il test epigenetico per ogni sostanza che siamo carenti ci ridarà l'alimento per compensare questa carenza a livello vitaminico, a livello di minerali. Vediamo come minerali importanti, il rame, il manganese, la vitamina E. Il rame è un minerale fondamentale dal punto di vista sia dello stress ossidativo perché fa parte dell'enzimo antiossidante superossidi smutasi, che è uno degli enzimi endogeni più importanti insieme a glutatione e la catalase. Il rame inoltre partecipa anche, forma la ceruloplasmina, quindi aiuta la formazione dei globuli rossi, partecipa a livello dell'emoglobina, quindi ha un'importanza unica e dobbiamo controllare la sua carenza, anche un rapporto con lo zinco, di solito il rapporto è 10 a 1 zinco-rame. Il manganese allo stesso modo è un minerale molto importante, anche esso partecipa a livello di antiossidanti endogeni, manganese, rame e zinco sono i tre minerali che partecipano nella formazione dell'enzimo superossidi smutasi, che ha la capacità di catturare lo stress ossidativo. Vediamo anche la vitamina E, una vitamina liposolubile, molto importante dal punto di vista di ossidazione, di stress ossidativo a livello di membrana, a livello degli acidi grassi, e ce la riportiamo anche sotto gli antiossidanti, quindi di nuovo un'altra carenza di vitamina E, c'è una carenza abbastanza elevata della vitamina liposolubile. Importante è anche la carenza, come vediamo, del coenzima Q10. Tutti noi conosciamo l'importanza a livello mitocondriale, quindi la carenza di energia che questa ragazza ha, sicuramente è dovuta anche a una ipofunzionalità mitocondriale. Quindi noi dobbiamo controllare il coenzima Q10 perché è un coenzima che aiuta tantissimo sia a livello di memoria, di concentrazione, ma attiva la fosforilazione ossidativa dei nostri mitocondri. Marcatori di acidi grassi, omega 3, omega 6, poi li vediamo nell'insieme. Andiamo sugli amminoacidi, vediamo come c'è una carenza di cisteina, l'amminoacido solforato che tutti noi conosciamo, la cisteina, l'amminoacido solforato che forma le unghie, i capelli, ma allo stesso tempo è l'amminoacido che forma anche il glutatione. Il NAC, N-acetylcisteina, è il precursore del glutatione, che è un altro antiossidante importantissimo, che ha la capacità di catturare lo stress ossidativo. Un'altra carenza importante è del triptofano. La ragazza si sente sempre stanca, ha un umore che cambia giorno dopo giorno. Quindi la carenza di triptofano è molto importante per il microbiota intestinale. Sappiamo che il triptofano è il precursore della serotonina e quindi dobbiamo cercare di integrare, dobbiamo cercare di aiutare il nostro intestino, la sede del sistema immunitario. Poi vediamo che c'è un sistema di supporto intestinale, ci dà anche uno stress ambientale, elettrosensibilità, radiazioni, ma anche i funghi. Poi a destra vediamo, in base al numero, vediamo anche la gravità, dove dobbiamo intervenire con una maggiore rapidità e vediamo che noi dobbiamo intervenire assolutamente a livello metabolico, a livello dei nostri mitocontri, perché è lì che abbiamo un blocco e di conseguenza avendo un blocco a livello mitocontriale, la ragazza si sente sempre stanca e non riesce a produrre energia. Sicuramente anche lo stress ossidativo dobbiamo abbassarlo, dobbiamo catturare queste specie reattive dell'ossigeno, che altrimenti bloccano la produzione di mediatori importanti a livello mitocontriale. Se c'è uno stress ossidativo elevato, i nostri mitocontri purtroppo non si attivano, perché hanno un blocco. Andiamo avanti. Vediamo a livello intestinale, c'è una caretta, allora stress ambientali, abbiamo batteri, funghi, elettrosensibilità, quindi anche i funghi, i batteri, nel nostro microbiota dobbiamo cercare di seguire un'alimentazione probiotica e anche prebiotica in modo da eliminare i funghi e anche i batteri. Poi marcatori nutrizionali, troviamo di nuovo il triptofano, portiamo di nuovo la carenza di questo aminoacido così importante a livello dell'umore, a livello della produzione di serotonina e quindi vediamo com'è una carenza importante. Allo stesso modo cisteina, sulforafano, sono due, il primo è un aminoacido, la cisteina, già abbiamo visto, la seconda è il sulforafano, è un estratto superattivo delle brassicacee dei broccoli, la ritroviamo in tutta la famiglia dei broccoli, è una molecola che contiene zolfo e ha una capacità incredibile di detossificare a livello epatico, promuove a livello del citocromo AP 4,5 epatico, quindi è un'azione detossificante, oltre a regolare anche il rapporto aromatasi-estrogeni-testosterone. Quindi è comunque una molecola che contiene zolfo, come la cisteina, e sono precursori di detossificazione, anche del glutatione. Qui capiamo l'importanza della detossificazione, abbiamo un'elettrosensibilità, come abbiamo visto, elevatissima, quindi dobbiamo cercare di chelare, catturare, detossificare queste sostanze che poi vanno a bloccare i nostri mitocondri. Siamo avanti. Ecco, allora continuiamo ancora a livello circolatorio, cardio-circolatorio, qui siamo nel circolatorio per tutto ciò che riguarda cuore e circolazione. Vediamo che abbiamo la carenza di vitamina E, la vitamina E, come abbiamo visto, è una vitamina liposolubile che ha una capacità importante di proteggere l'ossidazione degli acidi grassi, di proteggere le membrane biologiche, oltre che lavora anche sulla pelle, però l'importanza è di uno stress ossidativo a livello di membrana. La vitamina K1 è una vitamina dove lei riscontra una carenza, viene da tutte le verdure a foglia larga, poi il nostro intestino riesce a trasformarla in K2, la vitamina che ha la capacità di attivare l'ostocalcina, di spostare il calcio alle ossa e in questo caso a livello circolatorio la K1 regola l'idratazione regola anche la circolazione, quindi aiuta ad evitare ematomi, lavora molto anche sulla coagulazione, quindi sicuramente soffre di fragilità anche capillare, oltre che penso che abbia anche una problematica a livello del microbiota intestinale come abbiamo visto. Cistina, ancora una volta la cistina, cisteina, sono aminoacidi importanti, solforati, che formano le articolazioni e infatti le facevo notare se in questi tre mesi aveva notato una perdita di capelli e lei insomma mi dava ragione nel senso che ne stava perdendo tanti perché quando mancano questi aminoacidi così importanti sia da un punto di vista di detossificazione che dal punto di vista della produzione di aminoacidi solforati avviene anche questa perdita di capelli. Ci riportiamo di nuovo il coenzima Q10 lo ritroviamo di nuovo a livello cardiocircolatorio e sappiamo l'importanza del coenzima Q10 nell'attivazione mitocondriale ma soprattutto a livello cardiovascolare il cuore utilizza esclusivamente quasi esclusivamente grassi a scopo energetico quindi il coenzima Q10 diventa importantissimo per l'energia vediamo poi una carenza di acido arachidonico e acido alfa linoleico che andremo praticamente a esaminarli più da vicino proprio nel nel rapporto acido grassi omega 3 che ci farà vedere più in là più tardi andiamo avanti ecco qui che il test epigenetico ci fa notare l'elettrosensibilità questo campo elettromagnetico costante inoltre abbiamo anche il microonde il microonde insomma oltre ad avere elettrosensibilità va anche a inattivare a eliminare le frequenze del nostro cibo che poi noi mangiamo il cibo ha delle frequenze che e se noi utilizziamo il microonde queste frequenze vengono inattivate non è più un cibo ricco di nutrienti ma solo di antinutrienti e assolutamente lo abbiamo Fabrizio qua quando segna microonde questo microonde poi il report lo segnala a pagina 28 c'è un link e ci dice che questo microonde vuol dire anche wireless bluetooth wifi però lei scusami Giorgio lei gli ho fatto questa domanda e lei ha visto questa ragazza insomma utilizzava proprio il microonde e pensa a te sì sì oltre al microonde no no era proprio per dirti oltre al microonde questo segnala anche il resto certo invece questa ragazza e poi tanti casi ho che usano usano proprio il microonde tante persone e anche purtroppo ahimè anche tanti bar tanti ristoranti scaldano il cibo al microonde e infatti sì 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 assolutamente quindi andiamo a inattivare poi siamo carenti di antiossidanti ecco la causa perché oltre all'elettrosensibilità inattiviamo anche il cibo qui ci fa vedere molto bene le carenze delle vitamine vitamine qui ci evidenzia la vitamina K1 che è una vitamina che lavora sulla coagulazione e la vitamina E abbiamo una carenza importante di vitamina E è uno stress ossidativo a livello di membrana poi qui abbiamo minerali carenza di minerali infatti il test epigenetico ci dice aumentare l'assunzione noi dobbiamo aumentare l'assunzione di minerali come nel suo caso del rame abbiamo visto l'importanza del rame l'importanza del rame vediamo vediamo anche dal punto di vista poi dalle analisi del sangue possiamo andare possiamo controllare se c'è un caso di anemia un caso a livello di emoglobina oltre che dello stress ossidativo poi il rame partecipa anche nel tessuto connettivo nella produzione di collagene però avere il rame al primo posto come carenza di minerali sicuramente dobbiamo approfondire da un punto di vista della circolazione dell'anemia da quel punto di vista poi vediamo il boro il boro è un minerale anche esso importante soprattutto il boro lavora su tutto ciò che è articolazioni da un punto di vista nutraceutico noi ci ritroviamo il boro quando abbiamo delle problematiche osteoarticolari e dobbiamo intervenire utilizziamo il boro che ha questa capacità oltre che ha anche una capacità di fissare la vitamina D di aumentare anche gli ultimi studi dicono che riesce ad aumentare anche il testosterone a livello ormonale ma soprattutto lavora dal punto di vista di articolazioni e quindi vedremo anche a livello articolare poi il manganese abbiamo visto manganese importantissimo nella produzione di sod superossidi smutati un enzima antiossidante importantissimo lavora con due forme rami zinco e manganese quindi se manca il manganese il nostro antiossidante endogeno che dovrebbe catturare metalli pesanti intossicazioni xenobiotici elettrosensibilità viene meno abbiamo visto anche la carenza di cisteina che è il precursore del glutatione e tutto nell'insieme poi portiamo ad un aumento dello stress ossidativo un altro minerale molto importante è il litio il litio è un minerale che lavora a livello del sistema nervoso centrale nella memoria lavora per aiutare il nostro corpo anche a livello di umore quando abbiamo infatti viene usato anche come farmaco viene usato come farmaco nei casi depressivi e quindi ci dà questa carenza dobbiamo cercare di aiutare tantissimo il nostro sistema nervoso centrale quindi rifornire di acidi grassi importanti e di soprattutto di regolare a livello dell'umore e inibire lo stress sia uno stress ossidativo ma anche uno stress indotto dal cortisolo che è un ormone catabolico andiamo avanti qui vediamo gli acidi grassi quindi ci concentriamo da un punto di vista di infiammazione noi sappiamo che il nostro corpo ha bisogno degli acidi grassi essenziali abbiamo gli omega 3 gli omega 6 gli omega 9 che collaborano lavorano in sinergia per modulare l'infiammazione per cercare di inibire appunto l'acido arachidonico il tanto demonizzato acido arachidonico ma come vediamo tante persone hanno anche una carenza tutti noi pensiamo che l'acido arachidonico sia la molecola infiammatoria di tutti i tessuti però delle volte non è così perché il nostro corpo ha bisogno di equilibrio quando manca l'acido arachidonico abbiamo sicuramente un problema a livello del sistema nervoso centrale abbiamo una problematica a livello delle membrane biologiche l'acido arachidonico è il precursore degli endocannabinoidi che sono delle sostanze fondamentali per inibire lo stress psicofisico lavorano a livello del nervoso a livello nevralgico è una molecola importante è una molecola che non va sottovalutata in questo caso ad esempio la prima cosa che gli ho domandato gli ho chiesto ma mangi proteine mangi carne rossa perché sappiamo che l'acido arachidonico viene maggior parte viene dalla carne dalla carne rossa e lei insomma mangia pochissima carne e questa pochissima carne non ci fornisce un mediatore così importante nell'equilibrio degli acidi grassi inoltre anche l'acido alfa-linoleico che è il precursore degli omega 3 è importante perché le nostre catene vengono allungate da desaturasi e queste catene hanno bisogno sempre di vitamine minerali per poter promuovere questo allungamento a livello di 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 atomi di carbonio in questo modo andiamo a produrre tutta la cascata degli eicosanoidi e portiamo ad un equilibrio lo stato infiammatorio ma l'acido arachidonico non dobbiamo avere una carenza così elevata dobbiamo cercare Fabri Fabri ricordati che abbiamo cinque minuti eh sì sì andiamo avanti andiamo avanti qui ah qui abbiamo gli antiossidanti quindi aumentare l'assunzione di antiossidanti abbiamo visto la vitamina E ecco perché a livello degli acidi grassi quando c'è anche a livello di membrana manca l'acido arachidonico che è una molecola che forma le nostre membrane biologiche aiuta a rendere le membrane più fluide la vitamina E interviene a livello di membrana ed ha questa capacità di proteggere l'ossidazione degli acidi grassi sicuramente è una vitamina che liposolubile che va integrata per proteggere lo stato infiammatorio inoltre il sulforafano è un altro antiossidante che viene dalla famiglia delle brassicacee anch'esso è importante dobbiamo utilizzarlo sia dall'alimentazione ci sono tante sostanze che lo contengono e ha questa capacità anche di detossificare a livello epatico il coenzima Q10 il coenzima è importantissimo come abbiamo visto a livello mitocondriale a livello energetico è una molecola importante molto importante soprattutto per i cali di astenia i cali muscolari andiamo avanti vediamo a livello aminoacidico ecco qui qui abbiamo una carenza di aminoacidi vediamo numero uno acido aspartico sappiamo che l'acido aspartico è un aminoacido importante a livello surrenalico aiuta nell'antagonizzare aiuta nella produzione di ormoni che antagonizzano anche il cortisolo ormone dello stress vediamo come la cistina la cisteina che sono molto simili come aminoacidi uno forma l'altro e sono aminoacidi solforati quindi c'è una carenza elevatissima di precursori del glutatione precursori dell'antiossidante più forte a livello endogeno che ha la capacità di detossificare di catturare lo stress ossidativo ma di lavorare anche da molteplici punti di vista anche di protezione del sistema immunitario il triptofano aminoacido importante per la produzione di serotonina dell'umore quando mancano questi aminoacidi così importanti poi è difficile per una persona riuscire a produrlo oppure riuscire a mangiare i cibi che possano contenere un quantitativo così elevato vediamo anche che abbiamo delle resistenze le resistenze vediamo come batteri funghi e anche un post virus se abbiamo un intestino in disbiusi come abbiamo visto il nostro corpo ha un equilibrio tra batteri buoni batteri non buoni quindi noi dobbiamo promuovere il nostro microbiota dobbiamo dare sia delle fibre dobbiamo dare dei prebiotici e dobbiamo anche dei polifenoli anche i polifenoli flavonoidi dal regno vegetale hanno la capacità di nutrire i nostri batteri amici che poi ci aiutano i funghi i funghi hanno questa capacità di fermentare quindi quando mangiamo i carboidrati noi nutriamo il nostro intestino aumentiamo la produzione di funghi quindi la prima cosa sicuramente diminuire l'introido di zuccheri che hanno questa capacità di aumentare questa fermentazione indotta da funghi ci sono anche degli alimenti che adesso vedremo che hanno la capacità di inibire la produzione di funghi come il burro chiarificato il ghi che contiene acido caprilico che è uno delle sostanze uno degli acidi grassi a catena corta che ha anche questa capacità antimicotica inoltre vediamo come il post virus abbiamo un post virus può essere proprio sia il post virus a generare anche questa debolezza questa stenia questa ragazza 27enne dovrebbe muoversi avere un'energia incredibile fare tanto sport ma non riesce quindi è possibile anche che ci sia una riattivazione virale tutte queste cose noi possiamo controllarle con delle analisi del sangue e andare a fondo per capire qual è la problematica che blocca questa produzione energetica blocca i nostri mitocondri che appunto sono la sede energetica della cellula ci sono tutte le sostanze e i cibi che sono consigliati questa pagina è importantissima perché hai pochissimo tempo bisogna che vai a far vedere è molto importante questa pagina perché a sinistra abbiamo tutte le sostanze che il test epigenetico ci ha rilevato come carenza e a destra abbiamo tutti gli alimenti che possiamo utilizzare quotidianamente per innalzare le nostre carenze quindi a livello organico è importantissimo poi possiamo pensare di fare un'integrazione mirata ma l'alimentazione è fondamentale andiamo avanti ecco in tutto ciò poi abbiamo in collaborazione con il medico abbiamo deciso di fare delle analisi del sangue per controllare alcuni parametri importanti come l'omocisteina c'era una carenza di betaina trasportatore di metile anche chiamata trimeticina vitamina B12 quindi abbiamo testato l'omocisteina abbiamo testato l'MTHFR e come vediamo anche il colesterolo totale come possiamo vedere ha un valore molto molto basso di grassi 129 cioè il colesterolo è molto basso mangia pochi grassi ecco anche la carenza di acido arachidonico l'acido arachidonico è fondamentale a livello del sistema nervoso centrale quindi quando ci ritroviamo colesterolo totale così basso dobbiamo intervenire perché gli ultimi studi scientifici ci dicono che avere il colesterolo troppo basso porta a problematiche potrebbe portare a problematiche neurodegenerative quindi il colesterolo è una molecola che non va inibita anzi il colesterolo è un precursore ormonale importantissimo anche nella produzione del coenzima Q10 è una molecola di fondamentale importanza noi quello che dobbiamo combattere da un punto di vista nutraceutico è sicuramente lo stress ossidativo quello che fa male è il colesterolo ossidato non il colesterolo come molecola perché è importante nel proteggere anche le membrane biologiche quindi abbiamo fatto le analisi abbiamo visto come il colesterolo molto basso poi abbiamo visto stiamo aspettando i dati del polimorfismo MTHFR per vedere la carenza di folati di B9 di betaina per cercare di capire anche a livello dell'umore perché non produce esame e molte volte nel ciclo della metilazione quando manca la betaina che è una sostanza che riesce a rimetilare la metionina a generare esame aiuta tantissimo al livello di umore inoltre abbiamo visto che la carenza di rame ci conferma anche un'emoglobina un po' deficitaria abbiamo visto che è un po' di anemia da quel punto di vista e inoltre andando avanti abbiamo visto anche che abbiamo anche una una riattivazione vorremmo avere una riattivazione virale come citomegalovirus che va approfondita ma anche abbiamo visto anche l'Epstein-Barr che è il virus della mononucleosi c'è una riattivazione ci potrebbe essere una riattivazione e quindi noi in questo caso dobbiamo approfondire la causa della problematica e quindi capire se i sintomi della ragazza astenia debolezza poca energia problematiche a livello di umore possono confermarlo dalle analisi del sangue anche il cortisolo lì altissimo oltre a tutta la riattivazione sì il cortisolo l'abbiamo visto sia da un punto di vista di stress ossidativo ma l'abbiamo visto anche da un punto di vista adrenalinico quindi è uno stress che si protrae nel tempo e dobbiamo intervenire ma per fortuna abbiamo adesso un quadro generale dove noi possiamo intervenire e la nutraaceutica ci mette a disposizione anche delle piante medicinali ci mette a disposizione delle vitamine metilate vitamine attive che possono aiutare nell'insieme a riprogrammare a livello biochimico e soprattutto a livello energetico perché noi dobbiamo assolutamente lavorare a livello mitocondriale quando si trova una carenza di quinzima Q10 troviamo una carenza di cisteina di minerali che promuovono la produzione di superossidi smutati noi sappiamo che abbiamo uno stress ossidativo elevato e elettrosensibilità metalli pesanti trovano il terreno per poter chelare tutti i minerali invece importanti che servono al nostro corpo per difenderci da insulti come i virus batteri che tendono di solito a utilizzare anche il ferro per replicarsi grazie grazie di cuore ma hai fatto una presentazione meravigliosa quasi un corso sono andato un po' veloce però dai penso che i concetti sono passati mi piace che stiamo insomma siamo a un orario ma siamo ancora 100 persone pensa che ci stanno seguendo la cosa interessante naturalmente noi facciamo corsi di formazione abbiamo la scuola di alta formazione affiancamenti è uno dei nostri responsabili scientifici più importanti grazie a tutti